adesso io ho messo su 49 catenelle per farvi vedere come si lavora questo motivo allora facciamo ho iniziato sempre con l'uncinetto d3 come vi avevo detto adesso è un campione scusate che è un cambio cui va bene così allora facciamo una maglietta settiamo 3 catenelle 123 alla quattro facciamo la nostra prima maglietta prendiamo il filo andiamo nella scatenella successivo e facciamo la seconda maglietta e così esce fuori tre magliette vedete ok adesso facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 prendiamo il filo andiamo a contare adesso se catenelle di qua 1 2 3 4 5 6 no facciamo la nostra maglietta usate ok lasciamo altri due vedete abbiamo fatto questo quadratino chiamiamolo così ok adesso prendiamo il filo andiamo nella catenella successiva facciamo un'altra maglietta in tutto dobbiamo fare 6 magliette prendiamo il filo andiamo nella catenella successiva facciamo un'altra maglietta prendiamo la cane il filo andiamo nella catenella successiva e facciamo la nostra maglietta e siamo a 4 vedete adesso prendiamo il filo andiamo nella catenella successiva e facciamo la quinta maglietta prendiamo il filo andiamo nella catenella successiva e facciamo la sesta maglietta ok così adesso facciamo due catenelle 1 e 2 sappiamo una catenella una andiamo nella seconda e facciamo una maglietta così poi 3 catenelle 1 2 e 3 andiamo dove abbiamo fatto la maglietta rientriamo e facciamo un'altra maglietta ok così facciamo di nuovo 2 catenelle 1 e 2 sappiamo una maglia una catenella di bassa andiamo nella seconda e facciamo una maglietta andiamo nella catenella successiva facciamo un'altra maglietta andiamo nella catenella successiva facciamo la terza maglietta andiamo nella catena successiva facciamo la quarta magliata andiamo nella catena successiva e facciamo la quinta magliata andiamo nella catena e la successiva facciamo la sesta magliata vedete come viene già il lavoro inizia a prendere forma adesso facciamo 25 catenelle scusate perdonatemi 6 catenelle 1 2 3 4 5 e se sappiamo se catenelle 1 2 3 4 5 6 e facciamo la nostra maglietta prendiamo il filo andiamo nella catena successiva e facciamo la nostra seconda maglietta prendiamo il filo andiamo nella terza catenella e facciamo la terza maglietta ok questo è il nostro motivo che dobbiamo fare 3 magliette poi facciamo 6 catenelle sappiamo 5 cadena la sesta facciamo una maglietta poi nelle catenelle successive facciamo altri 5 maglietti perché devono risultare 62 catenelle saltiamo una catenella di base facciamo una maglietta 3 catenelle rifacciamo una maglietta nella stessa maglietta che abbiamo fatto abbiamo fatto due catenelle nella catenella sottostante facciamo 6 magliette poi di nuovo 6 catenelle saltiamo 5 catenelle facciamo la sesta una maglietta poi nelle catena successive facciamo le altre due magliette vedete come viene così faccio vedere vicino così ok continuiamo ancora con 6 catenelle ora facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 ok saltiamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 la sesta facciamo la nostra maglietta e continuiamo di nuovo facendo le altre 5 magliette come qua vedete dobbiamo ripetere di nuovo questo giro togliendo 3 dobbiamo ripetere da 0 di nuovo seconda catenella facciamo la seconda maglietta 3 catenella 3 catenella la terza maglietta 4 catenella la quarta maglietta quinta catenella la quinta maglietta sesta catenella sesta maglietta vedete scusatemi se ogni tanto mi confondo nel parlare perché non è facile io sono abituato a lavorare senza parlare per cui niente adesso dove aver fatto le stesse magliette facciamo saltiamo una catenella facciamo una maglietta poi di nuovo 3 catenelle nella stessa maglietta fai di nuovo un'altra maglietta 2 catenelle di nuovo 6 magliette e così via ci vediamo alla fine del giro ciao